Sì, sì, cosa fosse, era, era enorme. L'ha portato nel condotto d'aria? È scomparso in un condotto di raffreddamento. Non c'è dubbio, usei condotti d'aria per spostarsi. Ora, questo condotto d'aria potrebbe essere un vantaggio. Da qui sale su e sbocca nel serbatoio d'aria principale. Chi entrerà nel condotto? Beh, immagino. Lo attraggono il condotto d'aria principale, lo intrappolo nel punto intero, poi esce, aprirà il serbatoio. Blocherò le aperture di manutenzione mentre Parker, Ripley e Lambert controlleranno i suoi spostamenti. Ok, facciamolo. Sistema di sicurezza ha chiuso diversi portelli, quindi dovrai raccogliere il necessario lungo la strada. Mother non è molto di aiuto, purtroppo. Ok, ci vediamo dall'altra parte. Cristo, te la sei presa comoda. Chiudi la mia parte del sistema. Sono una preda facile. Resta qui e l'acqua, che non finirà presto. Chiudi, questo piano è una follia. È un suicidio. Chiudi il condotto e prosegui. Bene, cerco il condotto d'aria principale, conduci la bestia al ponte inferiore. Posso collegarmi ai sistemi della chiusa d'aria dal mio terminale. Siamo in posizione. Sto cercando di ottenere una lettura sullo schermo. Aspetta un'istante. Ce l'ho. Sì, è proprio vicino a te. Bene, ora ti ho sul mio schermo. Destra. Proprio lì intorno. Devi fare attenzione. Sinistra. Sì, vai. Continua di là. A sinistra. Vai, vai, vai a destra. Destra. Sì, è proprio legato al sistema della chiusa d'aria esterna. Ci vorrà un po'. Nasconditi da qualche parte. Sì, è proprio legato. Chiusa d'aria pronta. Aspetta che entri nella chiusa d'aria esterna e lascia da lì. Sta succedendo qualcosa di strano. Si sposta nella direzione di stanza. You beat the high score.